È davvero possibile che un antico numero e un raro allineamento cosmico possano trasformare la tua vita e il tuo futuro? Scopri il segreto celato nell'8 aprile 2024 e perché potrebbe essere la chiave per sbloccare una nuova era di consapevolezza e armonia universale. Nell'infinito tessuto dell'universo, esistono momenti e luoghi che nascondono segreti oltre la nostra comprensione. Il portale energetico 44, che si aprirà l'8 aprile 2024, è uno di questi misteri. In questo video, esploreremo le rivelazioni di Dolores Cannon e cosa questo portale segreto ha in serbo per noi. Preparati a intraprendere un viaggio tra scienza, spiritualità e coscienza collettiva. Oggi sei la benvenuta o il benvenuto su Ricarica Mentale. Iscriviti al canale e clicca sulla campanella delle notifiche per altri video straordinari. Il numero 44 è avvolto in un manto di mistero e potere. Un simbolo che attraversa culture, credenze e discipline spirituali. Secondo la visione di Dolores Cannon, una nota ricercatrice del paranormale e autrice di libri sulla regressione a vite passate e fenomeni metafisici, il 44 non è solo un numero ma un veicolo di energia potente e trasformativa. Nella numerologia, il 44 è considerato un numero maestro che detiene una frequenza vibrazionale più alta rispetto ai numeri singoli. Questi numeri sono ritenuti portatori di un potenziale superiore per la crescita personale e spirituale. Il 44, in particolare, è associato alla costruzione, alla determinazione, alla disciplina e alla realizzazione. Rappresenta la capacità di raggiungere obiettivi materiali e spirituali con un approccio meticoloso e controllato. Dolores Cannon parlava dell'energia del 44 come di un catalizzatore per il risveglio e il cambiamento. Nel suo lavoro, suggeriva che questo numero potesse influenzare la nostra realtà su diversi livelli, fungendo da ponte tra il materiale e lo spirituale. La presenza ripetuta del 44 nella vita di una persona potrebbe indicare un periodo di trasformazione imminente, un invito a riconsiderare le proprie convinzioni, obiettivi e il proprio percorso di vita. Ogni numero vibra a una certa frequenza, e questa vibrazione può influenzare l'energia intorno a noi. Il 44, con la sua doppia cifra, amplifica le energie della stabilità, dell'affidabilità e della costruzione. Questa energia può aiutarci a porre le fondamenta per i nostri sogni e aspirazioni, promuovendo un ambiente di crescita e realizzazione. L'influenza del 44 non si limita all'ambito personale, si estende anche al collettivo. Può stimolare un movimento verso una maggiore consapevolezza e responsabilità, incoraggiando le persone a lavorare insieme per un bene superiore. Il 44 ci invita a riflettere sulla nostra vita e sul nostro scopo. Questa riflessione può portarci a riconoscere e rimuovere gli ostacoli che ci impediscono di avanzare, spingendoci verso una rinnovata determinazione e focalizzazione. Inoltre, il 44 ci incoraggia a cercare equilibrio e armonia, sostenendo la nostra crescita non solo a livello materiale ma anche spirituale. Da sempre, l'umanità ha alzato lo sguardo verso il cielo, cercando di interpretare i movimenti degli astri come messaggi divini o presagi. Questa pratica, radicata nelle più antiche civiltà, si basava sulla convinzione che gli allineamenti cosmici potessero influenzare direttamente la vita sulla Terra, determinando eventi significativi o segnando momenti di grande trasformazione. L'8 aprile 2024, un evento astronomico di rara bellezza si presenterà come testimone della nostra continua ricerca di significato oltre la materia, l'allineamento che coincide con l'apertura del portale energetico 44. Gli allineamenti cosmici sono stati interpretati in diversi modi attraverso le epoche. Per gli antichi Maya, ad esempio, tali eventi erano intimamente legati al concetto di tempo e rinnovamento, essenziali per le loro predizioni e per il calendario. Anche altre culture, come quella egizia, attribuivano grande importanza alla posizione delle stelle, che credevano fossero direttamente collegate agli dèi e al destino degli uomini. L'apertura di questo portale non è vista solo come un fenomeno astronomico ma come un evento energetico potente, che porta con sé l'opportunità di profondo rinnovamento e crescita spirituale. Secondo alcune interpretazioni moderne di antiche credenze, questo specifico allineamento cosmico potrebbe funzionare da catalizzatore per accelerare i processi di evoluzione personale e collettiva, offrendoci l'opportunità di riallineare le nostre energie con quelle dell'universo. Le profezie e le tradizioni che menzionano eventi simili sono numerose e spaziano attraverso diverse culture e epoche. Questi racconti, spesso codificati in miti, leggende e testi sacri, sembrano suggerire una connessione intrinseca tra l'umanità e il cosmo, un legame che trascende il tempo e lo spazio. L'8 aprile 2024, quindi, si inserisce in un contesto molto più ampio, un filo che corre attraverso la storia umana, invitandoci a riflettere sulla nostra posizione nel cosmo e sul significato più profondo della nostra esistenza. Riscoprire come gli antichi interpretavano questi momenti cosmici ci invita a riflettere sulla nostra comprensione attuale dell'universo e sul nostro posto al suo interno. Questo viaggio attraverso la storia non è solo un'esplorazione di credenze e tradizioni passate, ma è anche un'opportunità per riappropriarci di una visione del mondo più integrata e olistica, in cui l'umanità e il cosmo sono profondamente connessi. L'8 aprile 2024 ci connette tra passato e futuro, tra scienza e spiritualità, invitandoci a riscoprire il dialogo con il cielo. In quest'era tecnologica e scettica, comprendere gli allineamenti cosmici ci apre a meraviglia e connessione universale, mostrandoci che esistono misteri oltre la ragione, pronti ad essere esplorati. L'idea di un portale energetico che si apre, portando con sé un'ondata di energia purificatrice e rinnovatrice, affascina e incuriosisce. Questo concetto trova radici in diverse tradizioni spirituali e metafisiche, ed è stato ampiamente esplorato da figure come Dolores Cannon, che ha dedicato la sua vita allo studio delle dinamiche sottili dell'esistenza umana e del cosmo. L'apertura di un portale come quello previsto per l'8 aprile 2024 solleva domande intriganti sulla sua influenza sulla vita sulla Terra e sull'energia personale di ciascuno. L'energia che si ritiene venga rilasciata dall'apertura di questo portale ha il potenziale per innescare cambiamenti significativi a livello globale. Le teorie attuali nel campo dell'energia quantistica suggeriscono che la realtà è molto più flessibile e interconnessa di quanto percepito comunemente, e che le intenzioni collettive possono influenzare la materia e gli eventi in modi misurabili. Se questo portale dovesse effettivamente trasmettere energia purificatrice, potremmo assistere a un innalzamento della coscienza collettiva, che si manifesterebbe in un maggiore impegno per la pace, la sostenibilità ambientale e la solidarietà umana. Sul piano spirituale, l'apertura del portale potrebbe significare un'accelerazione dei processi di risveglio e di evoluzione personale. Individui in tutto il mondo potrebbero sperimentare un senso di connessione più profonda con l'universo, una maggiore apertura verso dimensioni spirituali precedentemente inesplorate e un'intensificazione delle percezioni extrasensoriali. Queste esperienze potrebbero facilitare una comprensione più ampia del proprio scopo di vita e della propria missione animica. L'influenza del portale potrebbe estendersi anche al piano emotivo, portando a una purificazione delle emozioni represse e a un riequilibrio energetico. Molti potrebbero trovare più facile lasciare andare vecchi rancori, paure e insicurezze, aprendosi a sentimenti di amore incondizionato, compassione e empatia sia verso se stessi che verso gli altri. Questo processo di guarigione emotiva potrebbe favorire relazioni più autentiche e soddisfacenti. Dal punto di vista fisico, l'energia del portale potrebbe influenzare il benessere generale. Teorie recenti nel campo della medicina olistica e della fisica quantistica suggeriscono che il corpo umano è profondamente influenzato dai campi energetici sottili. Un'energia purificatrice e rinnovatrice potrebbe quindi tradursi in una maggiore vitalità, una migliore salute e un'accelerazione dei processi di guarigione naturale del corpo. L'evento dell'apertura del portale energetico 44 si palesa come un'occasione straordinaria, densa di potenzialità trasformative che invita l'umanità a risonare in armonia con le frequenze dell'universo. Questa circostanza straordinaria richiede non solo un atteggiamento di apertura mentale e di adattabilità da parte nostra, ma anche la capacità di accettare una certa dose di vulnerabilità, elementi fondamentali per poter accogliere e integrare le nuove energie che questo portale sta per dischiudere. Le pratiche meditative assumono un ruolo cruciale in questo processo di allineamento energetico, permettendoci di entrare in sintonia con le vibrazioni universali. Questo stato meditativo non solo pacifica la mente e dissolve le barriere interne che ci separano dal nostro sé autentico, ma prepara anche il terreno affinché possiamo abbracciare con fiducia le novità che l'apertura del portale è pronta a offrirci. Impegnandoci quotidianamente nella meditazione, generiamo uno spazio sacro interno, un santuario di pace e silenzio, che accresce la nostra sensibilità alle sottili correnti energetiche emanate dal portale, facilitando il rilascio di quegli schemi mentali obsoleti e delle convinzioni limitanti che frenano la nostra evoluzione spirituale. Nell'attuale era, caratterizzata da cambiamenti incessanti e da una complessità sempre più marcata, ritrovare e mantenere una pace interiore profonda si rivela più che mai indispensabile. La prossima apertura del portale energetico 44 ci estende un invito a riscoprire e rafforzare il legame che ci unisce all'essenza più intima dell'esistenza, spingendoci a esplorare pratiche quotidiane mirate a ripristinare l'armonia energetica perduta. L'attenzione consapevole, il riconnettersi con gli elementi naturali, il potere liberatorio del perdono e l'immersione nell'espressione creativa costituiscono veri e propri nutrimenti per l'anima, strumenti insostituibili per forgiare un benessere duraturo. Adottare una pratica fisica intenzionale che armonizzi mente, corpo e spirito ci immerge in un flusso di benessere completo, gettando le basi per un futuro radiante sia per noi stessi sia per le generazioni future. La dedizione alla meditazione quotidiana emerge quindi come una pratica fondamentale, un faro di luce capace di illuminare le profondità della nostra mente, alleviare lo stress e affinare la nostra capacità di vivere pienamente il presente. Questa piena consapevolezza, coltivata anche al di là dei momenti di meditazione, ci equipaggia per affrontare l'esistenza con serenità, riducendo le reazioni emotive istintive e nutrendo continuamente il nostro interiore con una pace pervasiva. Adottare uno stile di vita improntato all'intenzionalità, in cui ogni desiderio e ogni azione siano chiaramente direzionati verso gli obiettivi che aspiriamo a realizzare con il sostegno energetico del portale, ci consente di concentrare le nostre energie in modo efficace e costruttivo. Pratiche quali la tenuta di un diario personale, la definizione di intenzioni quotidiane o la creazione di una vision board amplificano la nostra capacità di attrarre le esperienze che desideriamo vivere, tracciando un percorso chiaro verso la realizzazione personale e spirituale. L'immersione nella natura, con il suo eterno ciclo di vita, morte e rinascita, ci offre lezioni impareggiabili sulla purificazione, sul riequilibrio energetico e sulla necessità di vivere in armonia con i ritmi del cosmo. Questa connessione profonda con l'ambiente che ci circonda ci fa riscoprire il nostro ruolo nel grande disegno dell'esistenza, rivelando come ogni nostra scelta individuale sia in realtà un filo che si intreccia nella vasta tela del destino collettivo. Dedicare tempo a contemplare la bellezza dell'alba, a percorrere sentieri boschivi o a curare uno spazio verde personale ci avvicina ai principi basilari dell'esistenza, insegnandoci l'importanza di ascoltare il silenzio, di apprezzare la semplicità e di nutrire l'anima con esperienze autentiche e rigenerative. Il concetto di eredità del portale energetico 44, in questo contesto, non si riferisce soltanto a ciò che viene lasciato alle generazioni future in termini materiali, ma include anche valori, conoscenze, e uno stato di coscienza elevato. Il portale energetico 44 enfatizza principi universali quali l'equilibrio tra dare e ricevere, la crescita continua dell'essere e la ricerca dell'unità in mezzo alla diversità. Questi valori possono servire da fondamenti per costruire comunità più forti e rispettose, promuovere relazioni interpersonali sane e sostenere una maggiore consapevolezza ambientale. Per incarnare e perpetuare l'eredità del portale energetico 44, è essenziale adottare e integrare nella nostra vita quotidiana i principi di equilibrio, crescita e unità che esso rappresenta. Questo può tradursi in pratiche semplici ma profonde come Dedicare tempo alla meditazione può aiutarci a mantenere l'equilibrio interiore e a riconnetterci con il nostro vero sé, facilitando la crescita personale e spirituale. Impegnarci in un processo di apprendimento e crescita continua, non solo in ambiti che interessano personalmente ma anche in quelli che promuovono il benessere collettivo. Partecipare attivamente a iniziative comunitarie o a progetti di volontariato che mirano a migliorare la società e l'ambiente, riflettendo il principio di unità e interconnessione. Adottare uno stile di vita più sostenibile, che rispetti gli equilibri naturali e promuova l'armonia con il pianeta. La vera misura dell'impatto del portale energetico 44 sarà osservabile nel modo in cui ciascuno di noi, e la società nel suo complesso, sceglierà di incarnare e diffondere i suoi insegnamenti. Ispirare gli altri attraverso l'esempio, promuovendo una cultura dell'ascolto, della condivisione e dell'empatia, può aiutare a cementare l'eredità del portale nelle fondamenta della nostra realtà futura. La chiusura del nostro viaggio attraverso il portale energetico 44 ci lascia con un senso di gratitudine e aspettativa. Questa esperienza non è stata solo un'escursione nei confini esterni dell'universo, ma anche un'introspezione profonda, un invito a scavare nelle profondità del nostro essere. Il portale, con il suo carico di energia e possibilità, ci ha offerto l'occasione unica di riflettere sulla nostra essenza e sulla nostra interconnessione con il cosmo. La risonanza di questi momenti cosmici non è semplicemente un fenomeno astronomico da osservare, ma un richiamo vibrante a una comprensione più profonda di noi stessi e del nostro ruolo nell'universo. L'apertura del portale energetico 44 simboleggia una soglia, non solo nel tessuto dello spazio e del tempo, ma nel percorso personale di crescita e scoperta. È un promemoria che la nostra esistenza è intrinsecamente legata a cicli cosmici più ampi, che influenzano e sono influenzati dalle nostre frequenze energetiche. Manterremo alta la nostra frequenza, un impegno a vivere in uno stato di consapevolezza e armonia, nonostante le inevitabili sfide e cambiamenti che la vita ci presenta. Questa alta vibrazione non è soltanto uno stato emotivo effimero, ma una scelta conscia di abbracciare il flusso della vita, di accettare con grazia e coraggio il cambiamento. Il potere del cambiamento, come sottolineato dall'esperienza del portale, non risiede nel temere l'ignoto, ma nell'accoglierlo come opportunità per crescere, evolvere e riscoprire la magia dell'esistenza. In attesa della prossima apertura cosmica, il nostro viaggio non si arresta. Continuiamo a esplorare, a sperimentare e a vivere pienamente, portando con noi le lezioni apprese e l'ispirazione ricevuta. La nostra avventura attraverso il portale energetico 44 ci ha arricchiti, rafforzando la nostra connessione con l'universo e con noi stessi. Grazie per aver viaggiato con noi attraverso il mistero e la meraviglia del portale energetico 44. Finché ci saranno stelle nel cielo, avremo sempre nuovi misteri da scoprire, nuove verità da comprendere e nuovi orizzonti verso cui viaggiare. Mantenere alta la nostra frequenza e abbracciare il potere del cambiamento significa restare aperti a queste infinite possibilità, pronti a essere sorpresi e meravigliati dallo splendore dell'universo. Fino alla nostra prossima avventura cosmica, vi invitiamo a conservare lo spirito di scoperta e la voglia di crescere, testimoni del fatto che, in ogni momento di apertura cosmica, c'è un'opportunità unica di conoscenza e trasformazione. Grazie di cuore, da Ricarica Mentale